Allora, all'altro posto dobbiamo andare... era qua. Ma che maledetto sto stronzo! Ci avete visto? Che maledetto! Aspetta, fammi vedere un secondo. Qua non c'è niente che ci serve. Ok, via, 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 via. Ok, boh, qua abbiamo fatto tutto quello che dovevamo cercare, ragazzi, perché non c'è nient'altro. Penso che qua ci sia qualcosa. Ah no, invece qua c'è qualcosa. Abbiamo aperto quella porta laggiù. E perché l'avevo aperta? Oh, porco, due. Ok, allora aspettate, andiamo ad aprire quella porta là. Ero convintissimo di averla aperta, sapete? Oh, cazzo, ho sbagliato, porco, due. Ok. Bisogna prendere la cura. Ok. Le cure. Sai che anche questi, prima che poi vengono a rompere le valle. Questo? Ok. Vai. Grande. Altre. Era una dosca. Vai, 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 c'è troppa, troppa gente. Aspetta, aspetta, aspetta. No, non adesso, non adesso. Ma porco, due. Cazzo. Cazzo. Che mi switcha di merda. Porco, due. Che palle. Ma switchato. Non puoi mettere adesso Dustin, cazzo. Gioco, porco, due, però anche te, non è possibile che fai queste cose. Ok. Ce la fai? Eh, vabbè. E mi ha preso, va bene. Ok, vai. Grande. Allora, dobbiamo fare attenzione molto. Via, 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 via. Togli sacca, secca, secca, secca. Fanno malissimo questi, eh. Mamma mia. Se fanno male. Ok. Ottimo. Altri soldi. Bene. No, cazzo, cazzo. Oh, via, sto cazzo di affare. Dai. Oh, vai a cagare. Vaffanculazzo, tu. Ok. Altro gnomo preso. Perfetto. Quindi adesso siamo a posto. Vai. Ho fatto una fatica maiala per farlo, sto pezzo. E dobbiamo, per forza, costruirci un po' delle armi un po' più potenti, eh. Un po' del bisogno. Eh no, ho sbagliato il tasto. Vabbè. Guanti di pelle, binocola. Intanto costruiamoci quello che avevamo visto prima, che ci mancava. Tipo questo. Questa. E mettiamola a posto di questo. Questa. Si, prova con un nano extra con colpi critici. Invece di attaccare quando lei ha con me. Invece di correre quando lei ha con te. Oh. Perfetto. Questo che vi ho detto Prima che non c'era niente Giusto? Sì Ok quindi qua abbiamo fatto tutto Andiamo verso Anzi no aspettate scusate Fatemi prendere un secondo le vite Perché qua siamo messi male con la vita Così siamo a posto almeno con quella Ok Così siamo a posto E andiamo Ora Allora tutta sta parte qua Andiamo un attimo alla baita di Hopper Vediamo se anche alla baita c'erano cose da fare Allora fammi un po' vedere Allora qua non sembrerebbe Andiamo solo dentro la casa di Hopper Ehm Nessuna grata A posto Quindi niente Da Hopper niente Da La magazzina di Murray Allora qua sembrerebbe niente Ma ci sono sempre loro Quindi non posso guardare E qui invece Grate Non ne vedo Nessuna grata Perfetto Ok Ok Allora Poi Laboratorio di Hawking Ok 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 Aspetta un secondo però Perché qua in effetti Monete Fai così Prendi questo A posto Comunque qua Non c'è nient'altro No Non vedo nient'altro Allora Qua grate Grate qua Grate 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 Non ne vedo Dovrei scendere giù A vedere un attimo Se per caso ci sono Però Sempre dritti Dovremmo andare Ma non possiamo andarci Quindi passiamo di qua Quanti cazzo sono Grandissimo Beh fa più male adesso Comunque Ness Il secco è meno tempo Stavo notando Il secco è meno tempo Sì Giusto Allora No Ho sbagliato il tasto Vabbè Allora Grate 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 Una è laggiù Una è di qua Aspetta questa Posso prenderla? Una è di qua Eh ti pareva che c'hai Nel minici qua Mi sembra giusto Porco due Se ti faccio male Ok No No Manca la corrente Aspetta Allora Allora Aspetta che ti do Corrente Ok Ok Penso a posizione Pulito qui Ok Merda Ok Ci ha aperto questa Eh che due Coglioni Sti qualcosa Guarda il pesce Il pesce Il pesce Il pesce Il pesce C'è il pesce Per la pizza Sardine Ok Ne manca Manca solo il salmone Questa 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 L'ha trovato L'ha trovato anche Bene E la stacca Questo E attacca Questo Eh Ha rotto le palle Madonna Quanto ha rotto le palle Tipa Ha rotto Veramente I coglioni Guardate La morì Ammazzata Proprio Ok Diti che ti mando io Che ti fanno Entrare il gratis Ok Ok Quindi Qui abbiamo preso La sardina Ottimo Aspetta 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 Vieni qua Vieni qua Vieni qua Allora Quindi direi Che quello L'abbiamo aperto Era l'ultimo Che ci mancava Ad aprire Altre Non ne vedo Direi di no Altri Non ne vedo No Ok Andiamoci indietro Andiamoci via 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 Prima che ci beccano Non c'ho voglia No Aspetta Vieni qua Fuggitivo 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 Oh Energia No È chiuso Qua Deve essere così Ok E via E anche Hawking E anche Il laboratorio di Hawking È a posto Allora Andiamo E ora Dobbiamo puntare Al Andiamo all'ospedale Allora L'ospedale Vediamo un po' Quale grata c'è Ma intanto qua Grate Ne vedo una sola Ed è qua giù Al momento E vabbè Bastarda Ok Pure Aspetta Qua è un casino Sì 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 Grande Monete Monete Qua in realtà Non so se c'era Altro da vedere Non penso Ma posso spaccarlo? Ah no Infatti Mi sembra Bastano Io quindi potrei far benissimo Così A vedere se ci sono Per caso Degli oggetti Da questa parte Comunque Comunque Allora Altre grate Qua non ne vedo Però bisogna andare a vedere Un secondo Via 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 Prendi Ste Cosa Qua bisogna andare a vedere Allora Aspettate Che qua Mo' è più complicato Grate Qua non ne vedo Uh Eccone Una lì Che è quella Che ci serviva Per di là No Aspettate Che cazzo fai? Allora Aspettate Dove cazzo Passiamo Passiamoci di qua Se è che è questo Energia Va benissimo Vai Sapevo io No No ma Ma secca quelli Pensa dopo alle macchinette Porco Due Ah no Più forte di lui La porta è bloccata No Alcol etirico Ok Semplici sacole C'ho Perché non posso Sbloccarla? Ah boh Non riusciamo a A fare le cose Però perché qua non te l'apre? Strana cosa Niente è proprio bloccata Vediamo se c'è altro Da vedere Sarebbe da andare No Di là È tutto chiuso Basta Vieni 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 Che ci andiamo Ci andiamo Ok Giù di qua Giù di qua Giù di qua E via Ok E ci siamo fatti Anche questo Che è ottima Come cosa Ok 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 Perfetto Quindi Laboratorio di Hocking fatto Ospedale fatto Byte di Hocking Perfetto Magazzia di Murray Non posso fare nient'altro Andiamo alla periferia di Hawking Dobbiamo aver fatto Ieri massimo a tutto Però Ho sempre Dubbio Che ci sia ancora qualcosa da fare Rimane Qua No Ok Possiamo andarcene via La casa qui a fianco Non si apre Come al solito Questa casa È quella della signora Ci andiamo a prendere Un altro regalo 30 gnomi Ottimo E i 40 però Non ce l'abbiamo ancora No Ho sbagliato Quanti gnomi siamo? 37 37 di 50 Siamo gli gnomi Ok Ma di qua si va via Qua c'è casa di Billy Sì c'è una grata Ok Grande Cazzo di vizio Oh Tubbs Ottimo Poi siamo riusciti ad aprire anche la camera Dei genitori di Max C'era altro che dobbiamo vedere Direi di no Ottimo In effetti quella camera lì era chiusa Quindi Allora qua andiamo ad Austin No Dalla vecchietta Amiamo Allora qua non ci sono cose Vediamo di qua Se per caso c'è qualcosa E neanche qua ci sono cose Via Ci manca un solo oggetto È pazzesca sta cosa Ci manca solo un pesce Questa È casa di Dustin Sì ce n'è uno qua Ciao Team MrBeast Benvenuto Ma stai Sì Alexander No sto da ok Ok ottimo Allora Aspetta un attimo Quindi qua abbiamo preso anche quello Quindi adesso però scusatemi 39 Ne abbiamo Allora Quello a posto Quello a posto Qua tutto a posto Sì Un peluche Mi è trovato dentro C'è altro Che può Tancraftare Cosa è questa Cavò Gruzzolo di soldi extra Eric Energizzante Cecchini Personaggi che usano il progetto No Pugno di risposta Dovata da brocca Niente Casa abbandonata Eccolo qua Non lo so 572 Non è successo niente Perfetto Non è successo niente Sì ma Giorno XX Niente di strano Ok Sembra la solita città Ormai noiosa Giorno XX Scambi Sospetti Sembrano venire Intorno a Stark Necessarie altre indagini Giorno X XX Spedizione Amicidi casuali Coinvolto anche il sindaco Giorno XX Pensavo che i russi fossero Il nostro problema peggiore Ma mi sbagliavo Giorno X Sta arrivando Indizio numero 7 Fortunato Ehm Ah Aspettate ho capito Aspettate allora Nel secondo Nel secondo Nell'ultimo Quindi 25 135 Eh Aspettate Qua devo poter uscigliarlo Muore Ormai Ah Ormai Nella vita Allora Aspettate Allora Rifacciamo Quindi Quindi 25 Poi 135 Poi 125 235 235 Allora 25 135 235 235 235 255 255 Questo mi pare Eh dove però Dov'è che si è aperto qualcosa Qua sopra Vuoi dire Può darsi Guarda quant'è Flash E anche questo è fatto Ma intanto Curati Ok Allora Vai Poi XBBBA XJB XABJ AAJB JBAB JXXA Eh qua ci sono cure Eccetera Che però Devo lasciare Per forza Intanto Switchiamo I personaggi Assolutamente Ok Quindi qua abbiamo preso tutto E l'ha fatto Anche qua Ottimo Ottima missione Ottima cosa Perfetto Ah qua c'era qualcosa Però perché Marco tu Torniamo un secondo A prenderci allora L'oggetto Della signora Già che ci siamo Signora Arrivo Arrivo Vengo a prendermi L'oggetto Quello dei 40 Signora Sono gli ultimi Ragazzi Gli ultimi Non so come cazzo Prenderli C'è gli ultimi Proprio Boh Coppa Eh manca L'ultimo Da 50 Al momento Ne abbiamo Esattamente 40 di 50 E ce ne mancano Il bello Che ce ne mancano Anche sono quelli Un po' più rognosini 21 23 24 Manca il 25 Manca il 35 Il 36 Il 40 E poi tutti quelli sotto il 50 Poi ok Allora Altro da fare Altro da fare Qua secondo me Abbiamo fatto tutto Quella casa lì L'abbiamo già vista Questa qua Quindi a posto Qua non c'è nient'altro Direi Ma non c'è nient'altro Andiamo a vedere qua Se per caso C'è ancora qualcosa Che dobbiamo fare Ma qua è aperto Intanto Posso vedere quindi Se per caso Ci sono oggetti Da fare Ah no Qua no Qua ci sono oggetti Sì Sì Ce n'è uno qua Ok Bene Ma vai a cagare Oh Un altro gnomo No Vai di là Vuoi di mettere La pallina Niente C'è altro qua Direi di no Ok Quindi lei è a posto Abbiamo preso un altro Gnomo Ok Direi che qua non c'è niente Già giusto così Per Ok Qua altre cose Direi di no Andiamo a vedere In quello dei maschi Di bagno Se per caso C'è ancora qualcosa Da fare lì Ah ok Qua non ci fa andare Quindi spero non ci fosse niente Ma era impossibile Averci la ragazza Perché lei ti arriva Comunque dopo Ti arriva come personaggio Non ci può fare niente Ok Fatto Non c'è niente Fatto 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 E fatto Ok Allora andiamo a Starcat È l'ultimo che ci manca Tutto il resto L'abbiamo fatto Dobbiamo andare Dove doveva andare la ragazzina Cioè di qua Certo che avessimo anche Steve Sarebbe ottimo Qua ancora Qua ancora Qua ancora